Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata dalla nostra serie di Asgard, episodio numero 5 Però prima di iniziare l'episodio, vi faccio vedere che ho preso una chiave di Nidavellir Che è bello forse, non lo so Andiamo tipo qua, non so se si può fare slash crate, no, presumo che bisogna fare la razza slash warp Andiamo verso i crate, proviamo a vedere che cosa riusciamo ad aprire con questa bellissima chiave, ragazzi miei Ok, allora, vida, 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 dove sta vida? Uh, qua addirittura, nice Wow, un po' una merda sinceramente Unbreaking, unbreaking 15, protection 15 Lol ragazzi miei, tantissimo È una cosa tremenda, va bene Possiamo buttare questa armatura che ormai non serve più a nulla Ok E abbiamo l'armatura della madonna adesso con noi, perfetto Che bello, che bello davvero, va bene, va bene, va bene Peccato che io vorrei un piccone un po' più figo magari che potresse Essermi un po' più utile, tipo qualcosa di potente, figo È carino, però, eh, non si trova niente, quindi, eh, non si può fare nulla Ciao ragazzi, quindi rieccoci qui in questa nuova puntata Come vedete, sono tipo tornato dopo, penso tipo qualche ora, in realtà Sì, sì, penso qualche ora dalla scorsa parte E sto scavando un botto di roba Sì, va tipo suoni indiscreti, ma vabbè, va nulla Allora, cosa sto facendo? Stavo un attimo pensando al fatto che Ora come ora, ragazzi miei Devo livellare, perché ho 204k Quindi vediamo un po' il prossimo run cap Vabbè, se tipo 140 persone, se c'è 60, ok Ed è il parkour, ok Quindi, sarà una cosa abbastanza Oh, Cristo, impegnativa Soprattutto per il fatto che sto usando una nuova tastiera Infatti, tipo, la Perix mi ha mandato una nuova tastiera E adesso la sto provando per voi Poi uscirà un piccolo, tipo, un piccola recensione Per dimmi un po' cosa ne penso E secondo me potrebbe essere un buon acquisto oppure no Quindi, boh, rimanete connessi al canale E vedrete nei prossimi giorni la recensione Ci vorrà davvero parecchio prima di stare lì sopra Quindi ci vediamo appena sono più o meno a un buon punto Comunque, la metà, insomma, vi faccio vedere un attimo com'è andata Ok, sono qui in questo bellissimo punto Sperando di non morire La tastiera è nuova, devo dire che ha un bel grip Mi interessa, è carina Devo tanto abituarmi un po' Però per il resto Oddio, qua non si può andare da questa parte da qua, allora Ok, però per il resto sembra essere abbastanza carina Ok, ahia Uh, diamine Aspettate, devo un attimo andare da questa parte Porca vacca, lo sapevo io È un po' complicato tipo fare quelle scalette Lo sapete, è tipo Ahm, quella difficoltà strana Di fare il parkour con le scalette Tipo, in genere non lo faccio mai con le scalette Proprio perché non sono abituato Ok, tipo Dovrei fare così, tranquillamente Ok In questo modo Perfetto, nice E adesso devo andare da quella parte E sono quasi arrivato alla fin fine Quindi dovrei fare sufficiente slash set home Ok Perfetto Andiamo di qua Piccoli stick Oddio Dopo questa cosa ragazzi Imparerò a far parkour In ogni fottuta mappa che farò Oddio Ok Tranquillo Lì sei tranquillo Tranquillo Ok Adesso dove si va da questa parte Saltiamo direttamente tutto il resto Ok A posto Ah, qui è un bel problema No, merda Lo sapevo io Oddio Dove si è venuto? Ok, si è venuto un tipo da questa parte Perfetto Ok Eh Opla E in realtà Non Ok, ci sono stato il problema Quindi è fatto apposta E Fatto sta ragazzi miei Che non so da dove si vada Per completare il tutto Cioè Non c'è un punto Adesso lo scopro Ah, mi sa di qui Ok, sì, di quali qua Dopo un'attenta analisi E il fatto che stavo sclerando Un pazzo per poter salire sul parkour Mi sono ritrovato qui Slogato È stata una bella idea Spesso per il fatto che adesso 1.3.000 Non credetemi come Ma qualcuno me l'ha donati Grazie mille E adesso potremmo fare direttamente Una cosa molto bella Per un rank up Ok ragazzi miei Si va avanti No, schippiamo il parkour Sti cavoli Ah, io ho compito il challenge Your rank now is 9 Quindi se andiamo al warp Questi sono 3 7 8 9 Siamo inferno jump Giusto? No, siamo al surt Adesso siamo al surt Nice Male Vediamo un po' Cosa c'è nel surt È un Wow Wow Ho sacco di blocchi In effetti Vedete che possiamo anche Tipo vendere Facendo just shell Posso vendere 1, 2, 3, 4 e 5 Perché qualcuno Mi ha regalati gentilmente 27.000 In realtà I blocchi diamanti Non costano così tanto Però fa nulla Va bene comunque E se facciamo ranks Mi hanno anche detto Che posso vedere Quanto costano Ora siamo nel surt Cosa 160.000 L'ultimo costa 3 milioni Ma in realtà Ragazzi Inizialmente facendo così Dovremo riuscire ad arrivare Più o meno qua Di meno Jonhut Oppure no Non lo so Vediamo Soprattutto il fatto che C'è il parkour Sorry ragazzi Ma la tastiera nuova Non è il massimo Non riesco a capire bene Come funziona Perché sono abituato A spingere L'ultima tastiera La tastiera L'ultima tastiera La tastiera Però sono le macro Ora come ora Allora usciamo qui Torniamo Usciamo Esc Ok Vediamo un po' Facciamo col prossimo rank Tranquillamente Rank up Ed è cos'è Un maids Ok molto semplicemente I maids sono semplici Sapete benissimo Che noi siamo Ben abituati a questa cosa E dovremmo riuscire Tranquillamente A uscire Di qui Allora Vediamo un po' Prima di tutto Ma perché ho l'audio così basso Ho abbassato l'audio Sbaglio Eh Sì Un po' l'ho abbassato Perfetto Eccolo qui Tornato E dobbiamo andare Verso il maids Allora maids 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 Qui no Ovviamente adesso Senta sempre più complicato Ok di qui si scende Vero se Mi ho trovato già un posto carino Secondo me Da questa parte si va Tipo di qui Poi si fa il giro No manco per il cavolo E Di qua Forse Andiamo un po' Andiamo un po' Sembra di no Manco per il cavolo Sembrava di si però In realtà non era così Va bene Possiamo sempre fare il giro Molto figo Dai che ce la facciamo Dai che ce la facciamo Ok Ok E nada Nada davvero E dai Fammi trovare questo posto carino E' brutto tipo andare qui in giro In modo stupido A cercare un'uscita Perché in realtà poi non la trovi Quindi devi un po' Diciamo abituarti Forse di qui No No E' Dove si va Dove si va Uh aspetta Qui non sono andato invece Di qui mi sta di no Oh eccolo qua Perfetto Bam Ti ho trovato Nice Questo è il prossimo Uh guardate Diamanti ovunque Nice Guardate 3, 4, 5 diamanti A go go Qua già facciamo un po' Più gold Più semplice Però facciamo un altro rank up Andiamo con i soldini E possiamo andare avanti Questo cos'è? Il fight Ok Stiamo facendo i fight Abbiamo l'armatura potenziata Adesso che abbiamo fatto anche la nuova cosa Ehi Ciao amico In realtà Mi serve una spada potenziata Quindi devo lanciare una spada Appena possibile Perché ho perso i livelli? Bella domanda Non lo so Ho perso i livelli Non so come Guardate adesso È un po' pericoloso Aspettate Oh Maledizione Muori Ok In frattempo aumentiamo anche Il nostro livello di fighting E qui vedo che ci sono Un paio di nemici Da cui dei creeper Che sono piuttosto pericolosi Aia Tai fe Non picchiarmi Ok Muori piccolo coso A posto Tu muori Vieni qua Ok Uno è morto Mancano stanti i creeper Che comunque sono quelli più stupidi Potrebbero anche scoppiare tranquillamente Ma questo tipo Si sono sciottato Oii vai Vieni qua Combatti Bam Morto Ok Ed eccoci qua Al prossimo Oh Gli smeraldi ragazzi miei Sì che adesso si parla di cose belle E ovviamente Adesso che c'è il prossimo run cap Dobbiamo andare nel parkour E io approfitterei del fatto che abbiamo un po' di soldi Non abbiamo abbastanza soldi per poter rancare al prossimo parkour Quindi ci vediamo Ci vediamo presto in realtà Non lo so Facciamo così Facciamo un po' di soldini Magari Potremmo già iniziare a fare parkour Tipo un pochetto Ma mi serviranno un botto di money Quindi Ehi Vado a fare money Facciamo così Ok ragazzi Ho venuto gli ultimi tipo 7-8 stati diamanti Ci ho venuto davvero pochissimo a farli Tipo Saranno passati 5 minuti Facilissimo E adesso possiamo fare il run cap Finalmente E spendere questi benedetti Soldini Questi 100.000 Per schippare E andare al prossimo Perfetto Adesso sono a livello 2 Quindi warp Andiamo al 12 Noi abbiamo il first demon Adesso Uh First demon Poi c'è tipo l'altro che l'ice demon Wow Ci vorrà in eternità Ci vorrà Però ce la potremmo fare Uh Oh La madonna Già iniziano le cose belle ragazzi miei Guardate qua Guardate qua Già smeraldi A domani gli smeraldi non valevano così tanto È vero ragazzi Vabbè Fa nulla Comunque li recupereremo un sacco Ma io per adesso vi saluto Vi ringrazio per stati qui con me Con questa nuova puntata di Asgard Che sembra Avvicinarsi sempre più alla fine Noi ci metteremo davvero poco Ad arrivare alla fine Sinceramente perché non è così difficile E ci vediamo nella prossima puntata Di Asgard Ovviamente lasciate qui sotto un bel like Trovate qui i link per tutte le cose La pagina di Facebook La pagina di Instagram E anche quella di Frager E noi ci vediamo nella prossima puntata di Asgard Che sarà probabilmente Questa settimana sempre Ma non presto Comunque tranquilli Non preoccupatevi Ci vediamo molto scialla Ciao ragazzi